Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Pasqua è ormai alle porte e io sono alle prese con tutte le preparazioni dei dolci di Pasqua da poter distribuire poi in giro, tra cui le colombe, le uova di Pasqua per l'appunto. Solitamente mi piace portare anche ad amici e colleghi anche un piccolo pensierino tra cui le ovette di cioccolata di piene. Le mie preferite in assoluto sono quelle al caramello salato, quindi oggi nello specifico andiamo a vedere come si prepara la salsa al caramello salato. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti. Per preparare la nostra salsa al caramello ci basteranno 225 g di zucchero, 84 g di burro, se sono 85 non viene lo stesso, 125 ml di panna e circa 4 g di sale. Andiamo a vedere come si prepara questa semplicissima ricetta. Per preparare la nostra salsa al caramello salato io sono andata ad aggiungere lo zucchero in un tegame e dovremmo andarci a comportare come quando facciamo il caramello, quindi aspettiamo che si sciolga per bene dopodiché andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Come vedete lo zucchero si è sciolto quasi del tutto. Se si dovessero essere formati dei grumi, perché a volte può succedere, provate a schiacciare in questo modo. e una volta che il nostro composto sarà quasi liscio, anzi liscio, andiamo ad aggiungere prima il sale e rimescoliamo in questo modo e il burro fate quest'operazione a fuoco spento, mi raccomando, perché rischiate di bruciarvi schiena che non si sarà sciolto del tutto guardate già come si sta formando non dovrebbe mettercisi molto perché comunque il caramello è molto molto caldo guardate già che ha cambiato colore è molto più chiaro che meraviglia ok fatto questo non ci resta che aggiungere la nostra panna a questo punto riaccendiamo il fuoco a fiamma bassa finché non raggiunge il punto di ebollizione mescolate molto velocemente che sennò vi si formano i grumi e ci rivediamo a salsa pronta questa è la nostra salsa al caramello in questo momento è ancora molto molto liquida perché molto molto calda quindi la andiamo a mettere in frigo fino a che non si raffredda completamente e ci rivediamo al risultato finale ed eccoci qui per il risultato finale la mia è freddina è ancora chiepidina diciamo però già così questo è il risultato ovviamente se la fate raffreddare di più diventerà ancora più consistente io non so voi ma ricordo che quando andavo alle superiori il momento più bello durante la ricreazione era quando andavo alle macchinette a prendere il Twix e lo rompevo a metà e vedevo tutta questa salsa al caramello scendere mi faceva morire è da lì che ho cominciato a mangiare il caramello salato quindi sono diciamo legata un po' emotivamente a questo tipo di farcitura e che dire la ricetta è facilissima e che ve lo dico a fare buonissima fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta provate a farla e fatemi sapere qual è stato il vostro risultato sicuramente bellissimo perché è veramente veramente una ricetta facile e niente ci vediamo al prossimo video Grazie 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 Grazie